Si può uscire dall'euro sì o no? Ne parliamo con Claudio Borghi. Ciao Claudio. A Claudio io girerò. Alcune delle frasi che vengono solitamente ripetute nel dibattito sono le frasi di chi non vuole uscire dall'euro. Allora, via con la grafica, partiamo subito con la prima frase. Uscire dall'euro è impossibile. Guarda, questa è la più facile da smontare perché cambiare moneta l'abbiamo fatto non troppo tempo fa. Siamo passati dalla lira all'euro e quindi è dimostrato che se cambiamo moneta non sparisce la nostra civiltà. Anzi, l'unica cosa è che in questo caso è andata peggiorando. Adesso noi dobbiamo semplicemente fare un altro passaggio legislativo uguale a quello fatto per passare dalla lira all'euro e passeremo dalla lira all'euro alla doppia V. Evviva che ce ne siamo liberati. Dopo vedremo un altro passaggio. In questo caso però, attenzione, sarà ancora più facile perché mentre all'epoca per coordinarci con gli altri stati avevamo utilizzato quel cambio assurdo 1936,27. In questo caso per ritornare a una nostra valuta propria possiamo fare il cambio uno a uno. Quindi uno non dovrà cambiare neanche i cartellini. Ma può essere unilaterale questo passaggio? C'è una decisione? È meglio concordato con gli altri. Se gli altri ci dicono di no è unilaterale. Andiamo alla seconda balla sull'uscita dell'euro. La crisi non è colpa dell'euro ma del debito e della spesa pubblica. Ecco, questo è incredibile ed è tipico di come ragionano quelli che propagandano queste balle. Vale a dire, se è colpa della spesa pubblica ed è colpa del debito, innanzitutto non si capisce perché siano andati in crisi prima tanti paesi che non avevano nessuno di problemi né di spesa pubblica né di debito. Ma soprattutto questi stessi che dicono questa cosa sono gli stessi che dicono che bisogna andare in Europa a battere i pugni sul famoso tavolo che non c'è per sforare i parametri del 3%. Quindi cosa significa sforare il 3%? Fare più debito e più spesa pubblica. Quindi diventa da una parte la causa, dall'altra parte la cura. Mi sembra molto strano. Terza frase che ti sottopongo. Saremo costretti a comprare il caffè con una carriola di soldi. Caffè o pane, dipende dalle interpretazioni. Qui ci vuole veramente una grande pazienza. Perché la svalutazione non è l'inflazione. Vale a dire, se io muto il valore della moneta non è che sparisce poi dopo il valore del aumentano in contemporanea i prezzi. Perché in realtà abbiamo visto sempre che non è così. Fammi un esempio. Ma non so, facciamo tutti gli esempi recenti che abbiamo potuto vedere. Per esempio il Giappone. Giappone recentemente ha svalutato di circa il 25% poi rispetto alla maggior parte delle monete. Inflazione, grosso modo zero, cioè zero virgola. Cose di questo tipo. Noi stessi... Della famosa Abenomics. Della Abenomics. L'Inghilterra, quindi UK, insieme con altri stati come Svezia e così di questo tipo, nel 2008, hanno svalutato in certo per certo del 50%, perché la sterlina è passata da 0,6 a 0,9 euro. Inflazione è aggiunta virtualmente zero. Noi stessi nel 92 abbiamo abbandonato l'EQ, quindi erano le parità di cambio, lo SME, no? Così di questo tipo, svalutando di circa il 30%. Inflazione zero. Quindi non si capisce perché adesso dovremmo andare a comprare carriole, ma soprattutto con le carriole di soldi, ma soprattutto il fatto di avere una carriola di soldi vuol dire che ci sono. Se invece è molto più difficile comprare un caffè senza soldi che comprarlo con una carriola di soldi. Noi in questo momento siamo nella condizione di senza soldi. Allora, quattro. I nostri risparmi non varranno più nulla? Ecco, allora, anche qui i risparmi. Non si capisce perché, no? O meglio, sì, si capisce. Se voglio fare terrorismo ti colpisco nei tuoi affetti, no? Che sono la tua sicurezza e il tuo denaro. La principale fonte di risparmio degli italiani è la casa, la casa di proprietà, che sta perdendo valore, quindi la casa, no? Il valore della casa sta perdendo proprio con l'euro e con le tasse che stanno mettendo, no? Ma la casa è un bene reale, vale a dire, se invece dell'euro prendiamo un'altra moneta che si svaluta rispetto all'euro, il valore della casa è dato dal mercato, è un bene reale, non sparisce un locale, non sparisce un abbaino, non arriva uno della BCE e ti tira su un muro a metà del salotto, no? In modo tale da requisirtelo per farti diminuire il valore. Anzi, può essere che se ricomincia l'economia a tirare, poi dopo il valore della casa, poi dopo aumenta. I fondi, i fondi, i titoli, e così via, dato che spesso sono composti da una diversificazione, io in un fondo di investimento ho titoli esteri, probabilmente aumentano di valore, perché se noi svalutiamo le cose che sono, diciamo, espresse in moneta estera, poi dopo aumentano di valore, quindi non si capisce proprio per che motivo. Loro cercano di fare il possibile per far credere che la tua casa svaluterà, perché non ti dicono che se anche anche dovesse scendere i valori delle case, scendono i valori di tutte. Quindi se tu devi vendere la tua, poi dopo ne puoi comprarne un'altra. Invece ti fanno credere che i tuoi risparmi, ma solo i tuoi, scenderanno, che le tue case scenderanno quando in realtà non è vero. Andiamo avanti. Numero 5. Mutui e debito pubblico andranno alle stelle. Allora, ecco, questo è fantastico e fa capire la mala fede, perché i risparmi, quelli di cui si diceva prima, sono i crediti. Quindi se noi abbiamo un'obbligazione, un deposito bancario, cose di questo tipo, sono dei crediti, sono dei soldi che noi dobbiamo ricevere. Un mutuo, no? Invece è un debito. Allora, non è possibile, loro ti fanno credere che i crediti vanno a zero e i debiti vanno all'infinito, no? Che evidentemente, essendo che sono la stessa cosa, è assolutamente impossibile. Se questi vanno a zero, vanno a zero anche questi. Se questi vanno all'infinito, vanno all'infinito anche questi. Quindi è totalmente sbagliata come impostazione. Il debito viene convertito nella nuova valuta. Nessuno sta ancora pagando i mutui in lire dopo che siamo passati in euro. Viene convertito nella nuova valuta e mantiene esattamente la stessa rata. Anche il tasso variabile, che è indicizzato all'Euribor, le obbligazioni sono indicizzate all'Euribor, non sparisce l'Euribor, così come non sparisce per il conteggio del debito. Quindi non cambia il tasso e non cambia la cifra. Non solo. Se per caso la valuta si deprezza, noi dovremmo ripagare il mutuo con una valuta deprezzata, che potrebbe essere anche un vantaggio. Andiamo avanti. Ne abbiamo ancora due. La sesta. Non potremo più comprare le materie prime. Certo, perché chi non ha l'euro, giustamente vive in capanne di fango. E noi quando avevamo la lira andavamo in giro col carretto col fieno. Io vedo che adesso c'è della gente che sta a casa perché non riesce a pagarsi la benzina per la macchina. Io invece mi ricordo che quando c'era la lira di macchine in giro per strada ce n'erano anche di più. Magari si inquinava, però era segno che di gente che andava in giro ce n'era. Vi faccio un esempio proprio molto molto veloce per far capire quanto è una bugia. Perché le materie prime non perdono il loro valore quando diventano prodotto. Supponiamo che abbiamo l'euro. Allora, con l'euro abbiamo un prodotto che costa, vale 100, che è composto da 50 di materie prime e 50 da lavoro. Quindi materie prime e 50 lavoro. Questa qui è la parte importata, questa è la parte del valore aggiunto. Ed è tanto, perché normalmente la parte del valore aggiunto è preponderante, anche in un pacco di pasta. Quello che costa è la scatola, la pubblicità, il trasporto, non certo il grano che ci metto dentro. Bene, allora teniamo questa divisione per essere aggressivi. Ecco, diciamo così. Allora, svalutiamo del 20%, no? Perfetto. Allora, a questo punto questa parte, questi 50 che io devo importare, essendo che siamo svalutati nel 20% e siamo diventati nel mondo del fiorino, questi diventano 60 fiorini, no? 50 al lavoro rimane sempre quello, quindi in questo momento 60 più 50, noi andiamo al prodotto e diventa 110, no? Ok, 110, ma 110 è un prezzo in fiorini. Quindi, svalutato del 20% diventa 88, quindi in ogni caso, anche in questa situazione, per il mercato estero, il prodotto diventa più conveniente, decisamente più conveniente e quindi se ne venderanno di più e sarà più possibile poi dopo avere fondi e introiti di valuta pregiata per comprare poi dopo cose buone. Ultima questione, quella più politica, non si può fare un referendum per uscire dall'euro. Ecco, questo è vero, cioè nel senso non è una bugia, non si può fare un referendum per uscire dall'euro. La bugia ve lo dice quello che vi sta dicendo che si può fare un referendum per uscire dall'euro. Nemmeno consultivo? No, non si può fare nemmeno consultivo perché il referendum per i trattati internazionali non è ammesso dalla nostra Costituzione. Un referendum consultivo non è ammesso dalla nostra Costituzione. Per farlo, incredibilmente, bisogna fare una legge costituzionale che lo puoi fare solo con due terzi del Parlamento, altrimenti devi fare, pensa te, un referendum confermativo per poter fare il referendum consultivo. Nel frattempo siamo morti. Chi vi sta dicendo questa cosa vi sta dicendo che ci si può impiccare da una fragola, per cui non è possibile. Per uscire dall'euro l'unica cosa che si può fare è uscire dall'euro subito, punto e va. Grazie. 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 Grazie.